Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria si registra un chilometro di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Vivio con la variante del Valico in direzione Bologna. In A15 a causa di lavori possibili rallentamenti a causa del traffico intenso tra Fontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Sul raccordo Senna-Firenze si ricorda che fino al 2 dicembre in vigore uno scambio di carreggiata per interventi di potatura all'altezza dello svincolo di Colle Valdelsa Sud che è chiuso in entrata in direzione Firenze. Scambio di carreggiata per lavori anche sulla statale Trebis e Tiberina all'altezza dello svincolo di San Sepolcro Sud che è ancora chiuso in entrata e in uscita in direzione Roma. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!